Vergine, si stanno accavallando un po' troppi impegni o punti di domanda che al momento appaiono difficile da gestire o da sbrogliare. Nulla mi vieta di pensare che si farà di tutto per coltivare un sentimento nascente. L'opportunità di farsi nuove amicizie in un evento mondano porta maggiore entusiasmo al cuore.